la notte di natale 1223 o musical che racconta come nasce la tradizione del presepe vivente in scena a rimini fino al 6 gennaio vediamo una tradizione natalizia ormai consolidata quella del presepe vivente grazie all'attore regista carlo tedeschi dal 2003 anche un musical di successo in scena rimini fino al 6 gennaio al circolo culturale di monte colombo notte di natale 1223 lo spettacolo tratto da una poesia dello stesso tedeschi ha debuttato negli anni 90 nella versione breve di 20 minuti l'idea di raccontare cosa successe la sera del 24 dicembre del 1223 quando san francesco l'amico giovanni diedero vita la prima natività animata lo ha trasformato in un'opera musicale in due atti rappresentato per la prima volta nel piccolo centro dell'entroterra riminese da allora usufruisce dei talenti romagnoli della compagnia ragazzi del lago del danza musical dell'associazione dare e della fondazione leo amici che oltre ad allestire l'opera aiutano gruppi amatoriali di giovani a rappresentare il musical in altre città italiane in maniera totalmente gratuita notte di 1223 infatti sarà in scena anche a torino teramo palermo siracusa e caltanissetta a